Buonasera dalla redazione sportiva del TG Noi. Apriamo con il calcio via libera della giunta comunale che ha approvato il progetto definitivo per la nuova illuminazione dello stadio Porta Elisa di Lucca. In pratica con il via libera sul progetto si andrà in tempi brevi, entro una decina di giorni, al bando per l'assegnazione dei lavori che saranno, al contrario di quanto era previsto in una prima fase, di durata contenuta. Le torri faro verranno sostituite solo in un secondo momento. Il primo intervento consisterà nell'adeguamento delle lampade a 500 lux così come vuole la Lega Pro. Per quanto riguarda i tempi, in comune si ritiene che nell'arco di una cinquantina di giorni i lavori potranno iniziare, nel frattempo verrà individuato un campo di gioco alternativo, a quanto pare già trovato dall'amministrazione comunale, che la Lucchese dovrà indicare solo al momento dell'iscrizione e al limite per la Coppa Italia. Slitta venerdì mattina la decisione degli organi competenti, in questo caso l'osservatorio delle manifestazioni sportive del Viminale, sulla sede dove disputare Ghiviborgo-Ravenna, gara di andata della finale nazionale play-off di eccellenza. Il Ghiviborgo aveva proposto di giocare le due partite, domenica a Ghivizzano, al 14 a Ravenna, senza le tifoserie ospiti. Qualora ciò non venisse accettato, la gara di andata, nel programma domenica alle 16, si disputerà a necchi balloni di Forte De Marli. Stefano Fracassi, il nuovo allenatore dell'Ammari, un gradito ritorno a casa per il tecnico dopo la bella e gratificante esperienza vissuta alla Lucchese. Fracassi guiderà il giallo-blu Capannoresi nel prossimo campionato di eccellenza, un ambiente che conosce alla perfezione avendo già allenato l'Ammari per diversi anni prima dell'approdo in rosso-nero. Stasera andiamo a presentare il nuovo presidente del Castelnuovo, Andrea Baiocchi, imprenditore di 45 anni. Il Castelnuovo riparte da Andrea Baiocchi, il 45enne imprenditore del settore della grande distribuzione, ha intrapreso la nuova avventura con grande entusiasmo e voglia, tanta, di fare. Baiocchi arriva al timone del blasonato Sodalizio Garfagnino dopo una mara retrocessione in promozione, che non è un gioco di parole ma la semplice realtà di un'altalena costante nelle ultime stagioni, per lo meno da quando è finita la splendida avventura tra i professionisti. Prende il testimone da Silvano Lombardi, che comunque rimarrà all'interno della società. Baiocchi approda in giallo-blu anche all'indomani di una mara retrocessione al termine di una stagione davvero disgraziata. Ho accettato questo incarico perché credo che oggi le società calcistiche devono avere una base organizzativa e budget finanziari ben definiti, ben organizzati. E quindi questo è quello che è il mio compito di organizzare questa situazione, di far sì che il campionato che andremo a fare, che è un campionato di promozione perché siamo retrocessi, sia fatto con condizioni di causa, sia fatto con delle organizzazioni ben definite, con delle persone che cambiano dei suoi ruoli. Il Castelnuovo ripartirà dunque dalla promozione, che non è campionato consono al blasone anche recente dei giallo-blu. Sul piano tecnico sarà costruita una squadra forte e ambiziosa, che vuole subito riguadagnare l'eccellenza. In tal senso va inquadrata la conferma per tre anni del direttore sportivo Massimo Valienzi, già operativo sul mercato. Ancora da definire invece il discorso relativo all'allenatore, che però salvo colpi di scena sarà ancora Walter Vangioni. In controtendenza ma in modo positivo il Castelnuovo conferma lo staff tecnico, nonostante la retrocessione. Una situazione perlomeno originale, ma senza dubbio esemplare. Credo che insomma si debba ripartire, ripartire con le persone giuste, ripartire con dei budget giusti per poter poi ambire a qualcosa di migliore. Nella seconda gara del torneo dei quartieri per il Girone A, in pieno svolgimento al centro polo di Viareggio, parliamo ancora di calcio, Torre del Lago per Federico è iniziato con il piede giusto, battendo in rimonta l'ex aviazione per 4 a 2. La scherma, 6 sciabolatori dell'Oreste Puliti Lucca hanno preso parte a Bucharest alla Cupa Riposta, competizione internazionale riservata agli Under 15, nella quale hanno gareggiato 71 schermitori di 7 paesi. Il miglior risultato l'ha tenuto Andrea Garofalo, che si è piazzata al terzo posto. Da non sottovalutare il quinto posto di Mattia Bertoncini, la spedizione lucchese guidata dall'istruttore Andrea Torcigliani, ha visto gareggiare anche Edoardo Di Grazia, Nicolò Panconi, Gioele Antonetti e Raffaele Pasquinelli. Il nuoto Sauro Bertolaccini, 18enne massarosese di Massarosa, figlio d'arte, la madre Emilia è stata anche un'ottima nuotatrice, si allena appunto nella piscina di Massarosa sotto la guida di Melissa Pasquali ed è stato convocato nella nazionale italiana che parteciperà alle prime olimpiadi giovanili europee in programma Baku in Azerbaijan dal 12 al 28 giugno. Parliamo di basket di Mirko Diamanti, quella che inizierà a fine agosto per il coach di Avenza, sarà la decima stagione a Lucca. Mirko Diamanti e il basket Lemura, un matrimonio sportivo che dura da dieci anni e che pare ormai qualcosa che va al di là del fatto puramente tecnico. In effetti il coach di Avenza ha legato le proprie fortune a quelle della società bianco-rossa che in questi anni ha portato ai vertici del basket femminile italiano. Insomma, una sorta di Ferguson dei noi altri del pallone a spicchi, lui ci ride su. Siano tante, questo sì, insomma dieci anni nella cultura e nella mentalità un po' dello sport italiano sono veramente tanti. Si ripensa insomma al primo anno, pensare di aver fatto, di poter fare un percorso così lungo e anche così esaltante, insomma non l'avrei pensato, però insomma fa piacere, fa piacere perché vuol dire quando stai tanto in un posto vuol dire che tu ti sei trovato bene ma anche gli altri si sono trovati bene con te. Diamanti è stato l'ispiratore del ritorno in bianco-rosso di Francesca Dotto, giovane play della nazionale che proprio sotto la sua guida è cresciuta tantissimo fino a diventare una delle giocatrici simbolo del nostro movimento. Curioso anche il fatto dello strano viaggio di andate e ritorno, Lucca-Venezia-Lucca compiuto dalla Dotto. Venezia è una grande società con grandi ambizioni, con grande potenzialità e quindi rispetto a noi il pensare che una giocatrice possa fare questo passaggio mi sembra legittimo e in una logica di evoluzione, ma il pensare il contrario, ritornare all'origine vuol dire una grande soddisfazione. Dotto-Crippa, Pedersen, Armon e Vojta, Mica Male, il quintetto base è già delineato, per la serie. Occhio, stiamo tornando, ci siamo anche noi. Credo che la società è stata di parola e abbiamo allestito una squadra più contemplativa dello scorso anno, quindi pensando e sperando di fare meglio dell'anno passato. Ancora basket, grande successo per la pallacanestro Forte De Marmi, che ha vinto il campionato di prima divisione, il prossimo anno giocherà in promozione la partita che ha deciso la stagione, si è svolta la scuola Ugo Guidi e ha visto il Forte De Marmi battere il bottegone Pistoia, 62 a 45 nella gara di ritorno dopo aver vinto anche quella di andata. Tre finali consecutive non si conquistano per caso e il cambio di marcia che c'è stato dalla fine del girone di ritorno è certamente dimostrato come il Forte De Marmi non avesse nulla da invidiare alle altre contendenti. Si tratta di una vittoria storica per un gruppo formato sia appena quattro anni fa, ma già in grado di sorprendere, ma soprattutto di vincere. Sempre il basket, parte nelle prossime ore l'avventura della squadra Under 17 dell'Alto Pascio, targata Assembly Line, il team rosa-blu guidato da coach Tonfoni è entrato nelle magnifiche otto del Gran Ducato Cestistico, chiudendo la stagione regolare alle spalle di Pesce. I ragazzi altopascesi se la vedranno al debutto con la favorita per il titolo, ovvero la Laurenziana Firenze, scherzo del destino, stesso avversario delle Final Four regionali Under 19. Qui vediamo appunto coach Tonfoni. Siamo al tennis, si iniziano a calare gli assi al torneo open maschile di Viareggio dotato di 6.000 euro di Montepremi. Tra le teste di serie cadono subito Crugnola e Grassi, sorpresi dagli ottimi Papa Sidero e Galoppini. Buon esordio del campione toscano Daniele Capecchia e del vice campione in carica Giacomo Oradini, attesa per il debutto dei grandi favoriti, in particolare Marrai, Sanchez e Virgili. Chiudiamo con i motori. L'equipaggio Garfagnino-Santini-Barsotti parteciperà nel fine settimana al 33esimo rally degli Abeti con la Renault Clio Gruppo A. Cercheranno Santini e Barsotti di piazzarsi nei primi dieci assoluti per la terza volta consecutiva dopo l'ottimo sesto posto al Valdinievole e l'ottavo al Casciana Terme. Parliamo di Federico Santini questa sera, ma con lui vogliamo estendere i complimenti a tutti quei ragazzi che non sono Paolo Andreucci, ma che tuttavia dimostrano grande passione per il mondo del rally a costo anche di qualche sacrificio economico e questo ci tenevamo a sottolineare. Con questo è tutto per quanto riguarda la pagina sportiva di questa sera. Vi ringrazio per l'ascolto. Dopo la pausa pubblicitaria, TG prosegue con la terza ed ultima parte. A tutti voi la più cordiale buonasera.